Binario 21, con Liliana Segre e Fabio Fazio viaggio al Memoriale della Shoah, il 27 gennaio su Rai 1 in occasione della Giornata della Memoria, Liliana Segre e Fabio Fazio presentano la serata evento, Binario 21. In questo viaggio al Memoriale della Shoah di Milano, la senatrice a vita tornerà con la mente al 30 gennaio del 1944, quando partì il treno che la condusse al campo di Sterminino di Auschwitz. Per non dimenticare e perché la storia non si ripeta. Venerdì 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, Rai 1 presenta Binario 21. L'evento esclusivo condotto dalla senatrice a vita Liliana Segre. Buongiorno a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.